La società Fenix Santa Maria comunica ufficialmente di aver completato le pratiche per il tesseramento di Stefania Raso, ultimo colpo in ordine di tempo della società biancorossa di Santa Maria di Castellabate, che va a completare un roster di tutto rispetto per la stagione sportiva che inizierà questo weekend. Il tesseramento di Stefania è l'ennesima dimostrazione di quanto la dirigenza focalizzi le scelte puntando innanzitutto sui valori umani abbinati a quelli tecnico-tattici. Punto di riferimento e capitano della Pure Energy Eboli per diverse stagioni fino a raggiungere la promozione in Serie A nazionale, la Raso vanta esperienze importanti anche con il Belvedere e varie squadre anche di calcio a 11. Giocatrice voluta fortemente con un pressing a tratti insistente da parte del presidente Spinelli, Stefania si rimette in gioco dopo un periodo di inattività ma con l'entusiasmo, l'impegno e la personalità che l'hanno sempre contraddistinta. Queste le parole della nuova arrivata. All'inizio non ero del tutto convinta per alcuni motivi, per i due anni di stop e per dare più tempo alle attività di mio figlio. Oggi sono contenta della scelta fatta con questa società per tanti motivi, innanzitutto il calore, l'impegno e la voglia di imparare delle ragazze. Ci si è contenta di aver ritrovato vecchie conoscenze come mister Saverio e il vice Lillo. Mi aspetto tanto dalle giovani, così come pure per le esperte. Si può solo crescere e far bene per raggiungere ottimi risultati.